Buongiorno, il titolo del video di oggi è chi digrigna i denti a collera gentile. Parleremo dunque di bruxismo, una condizione diffusa e crescente. Il digrignamento dei denti è una contrazione involontaria della muscolatura masticatoria, che avviene soprattutto durante il riposo notturno, talvolta in relazione a attività onirica. Si tratta di una fase di attività masticatoria che dura alcuni secondi, si ripete più volte durante la notte, ed è accompagnata da un caratteristico rumore. Il termine medico per indicare questa condizione è bruxismo. La sofferenza è abbastanza diffusa e può riguardare anche i bambini. Quest'ultimi però attraversano una fase di bruxismo di tipo transitorio che scompare con la crescita, o almeno questo avviene generalmente. Il bruxismo non è avvertito dalla persona interessata. Il rumore infatti causato dal bruxista è avvertito generalmente dalla persona che gli dorme accanto. Lo sfregamento dei denti disturba il sonno di chi dorme accanto al bruxista. Le complesse cause del digrignamento sono ancora oggetto di studio, anche se si sono osservati i seguenti fattori predisponenti. L'esposizione a stress può indurlo. L'aggressività, soprattutto se compressa e non espressa. La parassitosi intestinale. Si osserva anche una predisposizione familiare al digrignamento dei denti. Le malformazioni mandibolari e i problemi di occlusione possono determinare questa condizione. Infine, il bruxismo si osserva negli stati psicopatologici alterati e nelle malattie neurologiche. Il bruxismo tende ad essere trascurato nell'erronea aspettativa che si tratti di un fatto passeggero. Al contrario, la condizione comporta per il paziente una serie di conseguenze importanti. Il dolore alle mascelle, danni alla superficie dei denti, la sensibilità dei denti e delle gengive, l'insorgenza di carie, problemi all'articolazione temporo-mandibolare, problemi alla colonna cervicale per la monta del morso, cefalea, emicrania, problemi di postura, astenia, stanchezza per la scarsa qualità del riposo notturno, infine deficit cognitivo e, a sua volta, il bruxismo causa altre malattie correlate a stress. La terapia convenzionale del digrignamento dei denti si basa essenzialmente sui dispositivi. Questi sono denominati bite. Possono essere duri o morbidi a seconda delle necessità. I bite proteggono di notte però esclusivamente i denti e non evitano l'avverarsi del fenomeno né tantomeno le ripercussioni in tutti i settori esterni alla bocca. Tutti i pazienti con bruxismo dovrebbero essere incoraggiati, oltre che a portare il bite, a modificare il loro stile di vita, l'alimentazione, a verificare il microbiota intestinale, soprattutto utilizzare l'agopuntura per contenere la contrattura e la ripercussione dello stress sul morso. Secondo l'agopuntura, infatti, la condizione del bruxista è conseguenza di collera gentile, ovvero una forte rabbia che viene compressa per educazione o opportunità in gentilezza, salvo poi liberarsi durante le fasi del sonno nel quale prevale l'inconscio. La trasmutazione di collera in collera gentile avviene spesso quando manca una corretta proporzione tra aggressore e aggredito. Il risultato di un'iniqua proporzione tra le parti in rapporto conflittuale è la necessità di trasformare la propria collera in gentilezza. Questo fenomeno è chiamato ipocolera. Una fisiologica assenza di proporzione di forza tra genitore e figlio è infatti il motivo per la forte diffusione di bruxismo in teneretà. Altrettanto è questo il motivo per cui questa forma di bruxismo tende a passare con lo sviluppo, ovvero quando si ripristina una proporzione corretta nell'espressione del figlio e del genitore. Il bite da solo protegge i denti, ma nulla o poco può contro la sofferenza emotiva implicata e contro tutte le ripercussioni extra-orali del bruxismo. Il bite da solo, peraltro, è talvolta risentito come fosse una musaruola, dunque aggrava il fenomeno in alcuni soggetti anche proteggendo i denti. Nel bruxismo occorre un approccio multidisciplinare al trattamento, che comprenda il bite, la sanificazione dei problemi della bocca, il trattamento delle malattie che possono indurre il bruxismo, l'alimentazione corretta, lo stile di vita adeguato, un intervento sul microbiota intestinale e infine anche l'agocultura per agire sulla componente stress e contrattura che è implicata nella sofferenza del bruxista. Bene, siamo arrivati alla fine del video di oggi. lasciate un like, iscrivetevi al canale, ma soprattutto biffate la campanella, questo vi consentirà di essere avvertiti riguardo alla pubblicazione di nuovi video. Spero di vedervi presto ancora, arrivederci!